Stalking, violenza privata e lesioni, reati contestati a un 32enne di Pescara, Flavio Pignoli, arrestato stamani dalla squadra mobile al termine di un'attività d'indagine innescata dalla denuncia dell'ex convivente dell'uomo, il quale, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, perseguitava la donna con messaggi, telefonate e contatti di persona sia di giorno che di notte, alternando comportamenti violenti e minacce a tentativi di riallacciare il rapporto. Le minacce e gli insulti hanno ricostruito gli investigatori, venivano rivolte anche sulla chat del social forum Facebook. In particolare, in diverse occasioni, l'ex amante, secondo le indagini, rivolgeva gravi insulti e minacce, rivolte anche all'incolumità della donna. La schiaffeggiava e imponeva la sua indesiderata presenza, seguendola anche quando la stessa si trovava in spiaggia o recandosi presso l'abitazione di lei e non allontanandosene, nonostante il suo diniego, generando un fondato timore per la propria incolumità. È quanto prospettato nell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP Carla De Matteis, su richiesta della PM Silvia Santoro. L'uomo, per gli investigatori e persona da ritenersi pericolosa, in quanto già arrestato nel 2005 perché trovato in possesso di pistola con matricola brasa, è indagato in stato di libertà nel 2006 per episodi vessatori nei confronti di un'altra donna, in un periodo in cui vigeva, per fortuna dell'indagato, un altro tipo di normativa. Nel corso della perquisizione effettuata sono stati sequestrati alcuni coltelli ed una pistola giocattolo.